Ehi, Ethan Mars è l'assassino dell'origami. Ehi, Ethan Mars. Il golf club più esclusivo della zona. Strano posto per un appuntamento. Grande mazza, pallina minuscola. Mai capito il senso di questo sport. Bene, bene. Un vecchio amico. Bel tiro. Grazie. Venga, signor Shelby. Prende un caffè? Oh no, grazie. E gioca? Ho provato una volta e il proprietario del campo ce l'ha ancora con me. È uno sport interessante. Richiede forza, ma anche sangue freddo e precisione assoluta. Che ne dice di giocare un po' con me? Qui non c'è alcun pericolo di rovinare i green. Ok. Torga la giacca e prenda una mazza. Le palline sono lì. L'importante è impugnare la mazza nel modo giusto. Quando è pronto, tiri. Notevole. Sembra davvero portato. È solo fortuna. Presumo che non mi abbia invitato solo per giocare a golf, vero? Ho sentito che lei è interessato a mio figlio. Esatto. Vorrei capire se Gordi è collegato alla scomparsa di quei bambini. Sì. Mio figlio non ha niente a che fare con quella storia. Allora non ha da preoccuparsi per qualche domanda. Indagare su mio figlio è una perdita di tempo. Lì ho già detto che non c'entra. Con tutto il rispetto, signor Cramer, sono io che decido su chi concentrare le mie indagini. Sono un uomo influente, signor Shelby. E pago molto bene la fedeltà. Sta cercando di comprarmi. Diciamo solo che sto cercando di sondare i suoi interessi. Quanto vuole da lasciare in pace mio figlio? Temo mi abbia frainteso. Non mi piace questo gioco. Ti allontano da mio figlio, signor Shelby. Altrimenti se ne pentirà. Buona giornata, signor Cramer. Buona giornata, signora Cramer. Grazie a tutti